è stato un problema che mette il vento era una volta ricontrata fuori da l'altraterale si si ma poi i primi salti sono stati fruttissimi no ma lui guardava il tempo si stava a guardare è la prima canta della sera è la pena siamo a vedere con questa così è la mia grazie